Eccoci qua ragazzi, io faccio questo piccolissimo video per informarvi che questa sera alle 19.35 su Rai Gulp farò un piccolo intervento, sempre in tematiche cinematografiche, quindi non preoccupatevi cioè mi espongo in quello che relativamente mi compete la trasmissione è la TV ribelle 19.35 ce l'ho detto, il canale è il canale 42 del Digital Terrestre, l'ho appena controllato quindi sì, il canale 42 sono abbastanza emozionato per questa cosa, quindi spero che vi diate in molti la trasmissione anche perché penso che la 19.35 sia un errore abbastanza fattibile per tutti sia, che ne so, per lo studente che sta ancora studiando per recuperare il debito in scienze, matematica, inglese e quant'altro e quindi vuole prendersi una mezz'oretta di pausa oppure per colui che sta tornando dal mare, si è fatto la doccia, si è steso sul letto sta aspettando la cena e quindi vuole vedersi qualcosa di leggero non so perché sto facendo questo solito oco su una cosa che non c'entra niente vabbè, comunque penso che sia abbastanza fattibile per tutti è una trasmissione che ho scoperto da poco però ho scoperto veramente interessante sia per la maniera in cui ho strutturato perché è molto leggera però espone delle tematiche che mi colpiscono in maniera particolare perché rispecchiano sia la mia realtà personale sia la mia realtà su internet la mia realtà su youtube quindi vi consiglio ovviamente di andarla a vedere poi che cosa dirvi, ragazzi dovete andarla a vedere perché ci sono io non è da sottovalutare questa cosa assolutamente non da sottovalutare quindi questo volevo dirvi ve lo ripeto? va bene, ve lo ripeto allora, canale 42 del digitale terrestro 19.35, Rai Gulp, la trasmissione e la tv ribelle lo ripeto? basta quindi vi saluto, vi rimando al mio prossimo video alla mia prossima video recensione al mio prossimo vlog non so che cosa farò quindi vi rimando semplicemente ciao ragazzi